Buonasera, buonasera, buonasera a tutti, un salutone a tutti in chat, tutti quelli che si stanno collegando, nuova live del giovedì, nuova live del giovedì sera e stasera, stasera argomento ghiotto, stasera ragazzi ci si diverte perché finalmente si torna a parlare di Philip Roth. Sì 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 sì, live attesa, da me e dal sottoscritto più che altro perché non vedevo l'ora di parlarvi della biografia di Philip Roth, scritta da Blake Bailey, pubblicata in Italia da Einaudi, da questo malloppetto di mille pagine, quanto ci manca Philip Roth, tanto, sì, tanto. E' stata però una lettura sorprendente, nonostante io partissi già con tutte le grandi aspettative, nel senso aspettative dalla biografia che cosa ti puoi aspettare, non è aspettative da quel punto di vista, però partivo molto ben disposto nei confronti di questo libro. Grazie mille Leonardo, grazie mille per aver rinnovato il Prime per il quinto mese, ero molto ben disposto nei confronti di questo libro, però mi ha sorpreso e adesso vediamo perché, vediamo come è strutturato, vediamo quali sono le cose interessanti e meritevoli di questa biografia. Prima di questo bisogna un attimo fare un cappello introduttivo come al solito su Philip Roth. Allora, per chi mi conosce, per chi mi segue, sa bene che Philip Roth è un autore che mi è molto caro, diciamo così, per usare un ufemismo. È un autore per me fondamentale che mi ha seguito nel mio percorso da lettore, è un autore con cui sono cresciuto da lettore ed è forse l'autore in cui mi ritrovo di più. Nel senso, i libri di Philip Roth sono dei libri assolutamente confortevoli per me e sono dei libri coccola molto spesso, perché il modo di raccontare di Philip Roth e l'approccio letterario di Roth è qualcosa che risuona molto bene in me. Una cosa che mi ha sempre colpito di quella che è l'opera di Roth, quindi l'opera con l'O maiuscola, l'insieme delle opere di Roth è la compattezza. E questo viene fuori anche in questa biografia. Leggendo Roth, ovviamente a posteriori, per la maggior parte delle sue opere, io ho sempre notato questa grande capacità di, che è anche una delle critiche maggiori che si fa a questi tipi di scrittori, di scrivere sempre lo stesso libro, ma mai lo stesso libro, quindi di avere dei temi ricorrenti che diventano anche a volte manieristici. Grazie mille Libri Fiori Viaggi, grazie mille per aver regalato una salva Lisa! Wow! Hai regalato una salva Lisa! Stupendo! Grazie mille, grazie mille, veramente! Questa cosa mi spezza, questa cosa mi spezza! Stupendo, stupendo! Allora, ripeto, di scrivere sempre lo stesso libro, ma mai lo stesso libro, perché usa sempre gli stessi temi, usa spesso lo stesso punto di vista, usa spesso, ma non sempre, la stessa tipologia di prosa, ma quello che cambia in realtà è lui. Cioè, è il Roth autore che sta dietro ai romanzi. Questa cosa, secondo me, viene fuori come consapevolezza nel leggerlo, un po' leggendo tante opere di Roth, di periodi diversi di Roth, ma anche leggendo questa biografia, che, ve lo dico subito, a scanso di equivoci, io non consiglio a chi non ha letto almeno un Roth per ogni epoca, diciamo così, quindi almeno tre o quattro, secondo me anche quattro o cinque, però un po' di tutto di Roth. Senza aver letto un po' di opere di Roth, secondo me si perde tanto della fruizione di questo mattoncino. Perché? Allora, Black Bailey è un biografo che mi ha stupito, devo dire. La primissima cosa che mi ha colpito di questa biografia è che è scritta bene. E voi direte, eh beh, che sarà mai, grazie. No, non è così scontato. Non è così scontato soprattutto quando si parla di una biografia di un autore così raffinato dal punto di vista stilistico, e quindi che anche ha parlato molto di se stesso e anche quando non ha parlato di se stesso molto spesso i protagonisti di Roth sono stati assimilati a Roth e all'autore dietro al personaggio. Quindi sappiamo che il lettore di Roth ha ben presente come Roth o i suoi alterego parlano di se stessi. Quindi era molto difficile, a mio avviso, scrivere una biografia di Roth. Intanto da un punto di vista stilistico era difficile. E secondo me Bailey fa un lavoro egregio. Perché la biografia, il libro sono alla fine novecento e rotte pagine. Hanno una scrittura veramente elegante, fluida, dolce quasi nella prosa. E che accompagna molto bene una quantità di fatti e avvenimenti che aiutano probabilmente anche il mestiere del biografo. L'altro aspetto che mi ha colpito è come da subito Bailey mette in chiaro come questa biografia fosse un qualcosa di molto importante per Roth. Grazie mille Chiarid, grazie mille per aver rinnovato il Prime per il ventitrensimo mese. Quasi due anni. Fa effetto, fa effetto. L'albonamento di quasi due anni fa sempre effetto. Grazie mille veramente. Mette subito in chiaro come per Roth fosse fondamentale il come i posteri avrebbero preso la sua figura e quindi avere il controllo sulla sua biografia e scegliere per bene una scelta molto importante quella del suo biografo per Roth era veramente qualcosa di fondamentale ed è qualcosa che viene spiegato nel prologo, non so come si chiama prologo, comunque all'inizio, nel prologo esattamente, viene spiegato nel prologo ma poi si capisce per tutta la biografia come alla fine una delle ossessioni su cui Bailey appoggia questo libro è l'ossessione di Roth nei confronti di come gli altri vedono lui di qual è la sua reputazione era molto ossessionato dalla sua reputazione e se uno non avesse mai sentito parlare di Roth e leggesse solo questa biografia non verrebbe fuori quel ritratto spesso superficiale che viene fuori di Roth, no? quindi un uomo ossessionato dal sesso che c'è, assolutamente quindi questo suo gusto per anche la seduzione, il flirt, il tradimento c'è ma non è prevalente questo suo vivere in modo conflittuale l'essere ebreo la religione e, diciamo, l'etnia non è un'etnia però, diciamo, l'essere parte di una comunità come quella rigida, come quella ebraica sono tutte tematiche che Roth ha sviscerato più e più e più volte nei suoi libri ecco, Bailey prende un altro aspetto decide di non ritornare su ciò che Roth ha già raccontato perfettamente anche perché nel confronto avrebbe perso decide invece di basarlo più su almeno io l'ho letta così su questa ossessione nei confronti degli altri di come lo vedono gli altri e che è qualcosa come spiega anche nel prologo per Roth non era importante fare bella figura nel senso non voleva che la sua biografia fosse un'apologia di un personaggio che è stato anche controverso non voleva ripulire la sua immagine voleva più che altro che venisse fuori il Roth persona ok, Philip che molto spesso è stato oscurato anzi sempre è stato oscurato dai suoi personaggi che erano più grandi di lui molto spesso ed erano delle esagerazioni di tratti caratteriali caratteriali familiari o comunque sociali suoi ma esagerati ecco questa è una delle cose che ho preferito nel libro ed è il taglio che ha voluto dare Bailey per quanto riguarda la struttura è una struttura molto semplice in realtà cronologica per periodi della vita di Roth partendo dal racconto dei suoi genitori infanzia giovinezza inizi da un punto di vista letterario e poi tutta la sua vita barra carriera altra cosa che viene fuori ma questo se si conosce un po' Roth lo si sapeva già quanto la scrittura per Roth fosse fondamentale nel senso che la scrittura influiva sulla sua vita e la sua vita influiva sulla sua scrittura e non parlo soltanto dei temi o di ciò che succede in un libro ma proprio di come vengono scritti i libri come della sua prosa del suo approccio narrativo al raccontare ciò che lo circonda gli capita o trasfigurandolo nei vari casi per questo vi dico non è un libro per chi non conosce Roth purtroppo o per fortuna secondo me per fortuna perché è da quel qualcosa in più a chi è un fan di Roth non è un libro che fa entrare diciamo nuovi lettori perché non è proprio quello i libri di Roth vengono citati senza spiegazioni cioè ogni volta che nella vita di Roth capita qualcosa che poi lui utilizzerà nei suoi romanzi belli lo sottolinea lo sottolinea citando i libri citando i titoli citando magari i personaggi e basta cioè citando quel personaggio che è stato ispirato da quella tal persona vera che lui ha conosciuto in quel frangente della vita ma belli non ti dice che tipo di personaggio è che cosa succede nel libro e che ruolo ha quel personaggio all'interno del libro è una citazione che quindi se non si è letto i libri di Roth rimane rimangono rimangono un po' lì questo altro aspetto che mi è piaciuto tantissimo vi recupero però un attimo recupero un attimo i commenti in chat così nel frattempo penso anche a quello che devo dire dopo allora 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 Emma dice a me è sembrata una biografia molto equilibrata che non scade mai nella geografia esatto si avverte che Bailey è dalla parte di Roth sì e quello ci arriviamo soprattutto riguarda le travagliate vicende del suo matrimonio con Claire Bloom ma non esita a raccontare anche i comportamenti non spiacevoli di Roth questo qui apriamo poi un bel capitolo su questa cosa perché secondo me in qualche modo fa scuola questa biografia può piacere o non piacere l'approccio ma in qualche modo fa scuola salvate le vacanze di Natale salvate dalla biografia di Roth secondo me sì merita merita assolutamente dalla biografia emerge un ritratto di Roth come un uomo ben conscio del proprio valore di scrittore questo senza dubbio che ha sempre posto al centro della sua vita l'assoluta autonomia di pensiero una sincerità nell'esprimere il proprio giudizio che spesso sfocia quasi nella spietatezza sicuro questo secondo me non si poteva capire anche senza la biografia cioè nel senso io già a priori avevo questa idea di Roth me l'ha confermata però dopo parliamo degli imprescindibili ok così anzi magari mano a mano che arrivano fuori i temi vi dico quali secondo me sono anzi mano a mano che i periodi di Roth vi dico quali secondo me sono i libri più importanti o i quelli da cui iniziare per conoscere i loro Roth di quel periodo quindi andiamo con ordine la prima parte è sulla famiglia Roth ed è fondamentale sono le fondamenta anzi la prima parte in realtà è il prologo come vi dicevo ed è il manifesto programmatico della biografia quindi quella è fondamentale è già detta la linea secondo me è un ottimo prologo aiuta tanto e questo è un ottimo prologo perché riesci in poche pagine a darti la panoramica di Roth della vita di Roth a dirti quali sono le cose che Bailey ha curato di più a mettere anche le mani avanti Bailey mette le mani avanti dicendo ok ho accumulato un sacco di materiale sono il biografo ufficiale di Roth lui ha scelto me perché gli è piaciuta la biografia che ho fatto abbiamo parlato insieme di quale doveva essere il taglio di quale doveva essere il come dire il risultato finale anche quindi anche qui la grande attenzione di Roth per anche per questa cosa cioè l'ossessione perché la sua biografia deve essere come lui se l'aspettava e quindi altra cosa che mi ha affascinato tantissimo poi prima parte prima parte la famiglia Roth i genitori fondamentali perché perché ti dà in qualche modo le fondamenta su cui è costruito il mondo di Roth i riferimenti quelli che sono le figure genitoriali nei libri di Roth sono ovviamente ispirate ai genitori di Roth ma comunque alla famiglia di Roth che gli dà anche la linea per quanto riguarda i ruoli sociali i ruoli sociali uomo-donna importantissimo importantissimo al figlio del padre certo su cui poi scriverà anche un libro patrimonio che è l'unico libro di non fiction che pubblicherà Roth e è molto importante la figura della madre anche nei libri di Roth non appare poi così tanto cioè nel senso le figure materne ci sono molto meno rispetto alle figure paterne ma le figure femminili sì e sulla figura femminile anche qui Bailey fa un lavoro molto difficile anche perché è un po' l'elefante della stanza la rappresentazione femminile nei libri di Roth e parte da quella che è forse la figura la prima figura femminile è quella della madre e lì secondo me azzecca perfettamente il taglio funziona tanto il modo in cui Bailey racconta i genitori di Roth e ha anche un taglio molto narrativo nella prima parte molto più che nella parte successiva secondo me quindi parte molto bene la biografia poi arriva il giovane Philip arriva in maniera organica con il racconto della famiglia quindi il giovane Philip è ancora molto legato alla famiglia c'è lo stacco nel momento in cui arriva la scrittura e qui c'è secondo me un inizia un altro tipo di lavoro di Bailey ovvero quello di ripercorrere la carriera editoriale ok insieme alla vita privata è difficile tenerle insieme perché sono sembrano due linee parallele invece lui le intreccia molto bene quindi tutte quelle che sono le figure editoriali che lui incontra scrittori editor agenti vengono citati vengono raccontati vengono descritti in maniera narrativa anche in questo caso ed è un lato secondo me uno dei più affascinanti della biografia per me banalmente che mi interessa anche il come dire l'editoria americana molto affascinante l'editoria americana poi leggendolo francamente per la che tratti mi è sembrato quasi un libro di fantascienza guardando l'editoria italiana e confrontandola con quella americana dell'epoca e sia chiaro perché ci sono delle parti in cui Roth dopo è molto più avanti la sua carriera quando magari alterna romanzi più riusciti e commercialmente da romanzi invece meno riusciti commercialmente quindi vendono poco e si parla di anticipi di 100 150 mila dollari come vabbè insomma andata male sto giro ha preso solo 150 mila dollari d'anticipo sì benissimo all'epoca e soprattutto in un contesto di editoria americana ok sappiamo bene che in altre parti del mondo è un po' diverso e questa cosa mi ha fatto molto molto ridere ma la prima parte della carriera di Roth c'è l'esordio che io non ho letto ecco io non ho letto tutti i libri di Roth me ne mancano tre mi mancano i primi due che sono Lasciarla andare e Quando lei era buona e anzi no in realtà l'esordio è Goodbye Columbus che l'ho letto e infatti dobbiamo prima parlare di Goodbye Columbus però il primo romanzo Lasciarla andare e Quando lei era buona è il secondo romanzo quindi questi due mi mancano della primissima parte di Roth io Goodbye Columbus lo consiglio ma non lo consiglio per iniziare cioè non lo consiglio come primo Roth secondo me e molto bello è il ripercorrere di quella che è la vicenda editoriale di Goodbye Columbus quindi la pubblicazione dei vari racconti separati su riviste poi messi insieme i pareri di altri scrittori figura onnipresente nella biografia è la figura di Saul Bellow personaggio con cui Roth ha avuto un rapporto di amicizia poi qualche screzzo di nuovo amicizia alti e bassi nel rapporto tra loro due che insomma sono probabilmente i due scrittori ebreo-americani più importanti del novecento del novecento sì c'è anche Bernard Malamod ce ne sono altri per carità però insomma Roth e Bellow sono due simboli molto forti e Roth inizia la sua carriera in in maniera fulgorante perché lui è il più giovane vincitore di un National Book Award tuttora vince il National Book Award a 26 anni con Goodbye Columbus e quindi insomma è è un esordio col botto un esordio con una vittoria con una raccolta di racconti una vittoria che fa subito saltare agli unovi della cronaca il nome di Roth che è un nome in quel momento ancora come dire immacolato perché sì in Goodbye Columbus Roth racconta gli ebrei americani ma non c'è ancora pornoi che sarà un turning point fondamentale nella carriera e nella vita di Roth perché poi viene raccontato tutto il il tutti i primi passi editoriali molto ben considerati dalla critica e in quel momento viene anche raccontata a Bailey la sua prima il suo primo matrimonio un primo matrimonio che viene raccontato da Bailey come anticipava prima Emma in maniera tutt'altro che come dire edulcorata cioè Roth non ci fa una bella figura per niente come Roth racconta a Bailey della sua prima moglie è duro ruvido non non è una relazione diciamo perfetta tutt'altro e soprattutto Roth non è un marito perfetto non è un uomo perfetto sia in quello che pensa che in quello che fa sia in come agisce che nelle sue intenzioni e viene raccontato molto bene da Bailey altro aspetto che va sottolineato questa biografia negli Stati Uniti è stata al centro di uno scandalo non tanto per il contenuto della biografia ma per il fatto di cronaca che ha colpito il biografo Blake Bailey che è stato subito dopo il Me Too un periodo Me Too è stato accusato di molestie sessuali e questo ha come dire in qualche modo reso questa biografia un oggetto pericoloso è per questo che siamo qui nel 2022 a parlare di Philip Roth da biografia quando è uscita nel 2020 da biografia quindi insomma era scivoloso il parlare di come Roth ha vissuto il suo rapporto con le donne secondo me Bailey fa un ottimo lavoro senza prendere realmente una posizione ovvero lui ti sta raccontando Philip Roth gli interessa Philip Roth non va ad approfondire la vita di queste donne non va ad approfondire le motivazioni delle sue mogli delle due mogli soprattutto però non va neanche a giustificare Roth e questo secondo me è il giusto modo di agire per quanto riguarda il biografo ci sono notizie sull'eventuale pubblicazione della biografia di Roth scritta da Iron Adel no io non sentivo niente io non sentivo niente che però è una cioè questa è la biografia ufficiale diciamo questa è la biografia che Roth ha commissionato io non ho sentito nulla riguardo dal punto di vista della traduzione chissà se arriverà mai ecco è vero ma mi l'ho dimenticato il rapporto col fratello col fratello maggiore è molto importante nella prima parte e serve molto anche qui per capire alcuni personaggi maschili di Roth secondo me perché non sempre i personaggi maschili di Roth sono Philip Roth ma ogni tanto sono il padre ogni tanto sono il fratello e e Bailey lo sottolinea quando c'è da sottolinearlo quindi in questa prima parte della carriera io consiglio Goodbye Columbus però vabbè ora non mi ricordo esattamente se prima di Por Noi esce qualcos'altro comunque vabbè questo poi ne parleremo nella monografia perché mancano tre libri per finire Roth credo nel 2023 potrà arrivare il video monografico su Philip Roth e lì ci bizzarriremo stasera parliamo della biografia e il punto nodale della vita di Roth è stata la pubblicazione di Lamento di Por Noi mi aveva già parlato Roth in altri saggi lo si sapeva che Por Noi è stato un problema per Roth più che cioè ha dato tanto a Roth in termini di notorietà ma ha tolto tantissimo a Roth in termini di reputazione e Roth si pente di aver scritto Por Noi o comunque di averlo scritto in quel modo e non avrebbe voluto avere così tanto successo perché Roth pubblica Lamento di Por Noi e Por Noi diventa un caso un caso oltre che editoriale un caso totale e la figura di Por Noi diventa un tutt'uno con la figura di Roth e questo è qualcosa che non si riuscirà mai a scollare per tutto il resto della sua vita con Por Noi Roth si inimica tutti 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 sostanzialmente tutti ma soprattutto gli ebrei che erano diciamo come dire gli scrittori ebreo-americani hanno sempre basato gran parte del loro successo sul pubblico ebreo e Roth invece no perde questa cosa e diventa un un emarginato in qualche modo perché è emarginato dai non ebrei perché è ebreo e dagli ebrei perché ha parlato male degli ebrei e quindi qui inizia il vero problema di Roth ovvero scrollarsi di dosso Por Noi e sarà leitmotiv per almeno 400 pagine di biografia perché ogni volta che uscirà un libro di Roth ci sarà il riferimento a Por Noi le recensioni parleranno di Por Noi e per lui sarà un'ossessione altra cosa che non sapevo ovviamente che questa biografia mi ha detto a Roth interessava moltissimo quello che scrivevano i critici era molto attento alle recensioni alle sfumature e era uno che se la legava al dito se la legava al dito ed era molto attento a chi scriveva cosa a chi parlava bene di un suo libro in quale aspetto insomma c'è veramente c'era molta attenzione da parte sua nei confronti della critica io non me lo sarei aspettato sinceramente perché vedendo quanto è compatta l'opera di Roth pensavo fosse un qualcosa di molto più io vado avanti per la mia strada indipendentemente da quello che dicono invece no invece assolutamente no già c'erano stati problemi con quello su nixon la nostra gang è la nostra gang sì sì che se non mi ricordo è uscito prima o dopo scusate non ho sotto mano la lo tiro fuori quasi quasi serve visto che serve mi metto sotto la lista dei libri di Roth così almeno ramanzi eccolo qua è dopo dopo l'aumento di pornoi esce la nostra gang che esce prima a puntate se non sbaglio esatto e e lì attacca duramente nixon ma è ancora il Roth di pornoi per l'opinione pubblica quindi quello è un periodo difficilissimo per Roth il periodo degli anni fine anni sessanta inizio anni settanta perché poi fa uscire il grande romanzo americano la mia vita la mia vita di un uomo che è il primo libro in cui inizia l'utilizzo di Nathan Zuckerman come pseudonimo come alter ego e quindi quello è un periodo molto complicato ma è anche il periodo di massima ascesa e nel frattempo c'è la rottura con la sua prima moglie quindi periodo della vita molto complicato su cui Bailey sta molto si prende molto spazio e molto tempo per raccontare questo periodo perché è poi uno dei periodi più importanti della carriera letteraria di Roth e della vita di Roth di questo periodo senza dubbio va letto Lamento di Pornoi senza aver letto Lamento di Pornoi non si può capire Philip Roth è difficile capire Philip Roth la biografia capire la vita di Roth perché per lui Pornoi è stato una maledizione e la grande celebrazione la grande celebrazione come vendite perché in realtà ricordiamoci lui ha vinto il National Book Award a 26 anni con Pornoi non è neanche candidato e anche lì interessantissimo come Bailey sottolinea e crea un quadro di quelle che erano le conoscenze di Roth all'interno delle giurie della giuria soprattutto del National Book Award perché per esempio Roth si parla pochissimo di Pulitzer in questo in questo libro ma si parla tantissimo di National Book Award queste sono dinamiche che spesso noi dall'altra parte dell'oceano non sentiamo molto vicine cioè in Italia io posso dirvi no guarda quella casa editrice o quell'autore è più vicino allo strega o chi è più vicino al campiello e spesso almeno io lo sento meno dagli Stati Uniti e invece qui si vede che Roth aveva conoscenze molto più era molto più legato al National Book Award per esempio invece era grande amico delle si no beh Nobel ci arriviamo ma Nobel è l'elefante nell'armadio Nobel e donne il Nobel e le donne sono i due elefanti nell'armadio assolutamente di Nobel si parla dal prologo all'epilogo si parla di Nobel Nobel altra ossessione di Roth senza dubbio però dal punto di vista dei premi interni si parla tanto di National Book Award si parla pochissimo di Pulitzer e si parla tanto dei premi della Penn che infatti lui ne vince un tot adesso non mi ricordo che premi della Penn vado a guardare perché no ho qua la pagina Wikipedia aperta andiamo a guardare lui vince una quantità di Penn Faulkner Award ne vince tre vince ovviamente la National Medal of Arts a Casa Bianca data da Clinton e viene raccontato molto anche di questo vince il Pen Soul Bellow il Pen Nabokov ne vince un tot vince che il Pulitzer sia chiaro però viene raccontato molto meno non so per quale motivo vince anche il Pulitzer con Pastore l'Americano se non sbaglio quindi di questa prima parte senza dubbio va letto per noi dopodiché si la mia vita di un uomo secondo me va letto magari non come tra i primi però è un grande libro secondo me poi il primo di Nathan Zuckerman quindi si assolutamente altro libro su cui si sofferma molto Bailey è Lo scrittore fantasma perché è un libro in cui Roth parla tanto di scrittura parla tanto della figura dello scrittore del mentore e viene approfondito tanto nel libro questa cosa l'elefante nell'armadio ho detto vabbè ok nella stanza ragazzi scusatemi nell'armadio beh in effetti un elefante in una stanza dipende da quanto è grande una stanza ma l'elefante in un armadio è ancora più ingombrante quindi secondo me questa ce la dobbiamo rigiocare non è male l'elefante nell'armadio comunque e dicevo quindi c'è la prima separazione dalla prima moglie e poi c'è Claire Bloom personaggio fondamentale della vita di Roth Claire Bloom nel bene e nel male perché perché è la donna con cui insomma passa molto della molta della sua vita e soprattutto la parte centrale della sua carriera letteraria quindi quando veramente è Philip Roth ed è uno scrittore sulla bocca di tutti viene raccontato molto di Claire Bloom anche se come dire come vi dicevo prima il punto di vista è sempre Roth Claire Bloom poi già da subito ci viene detto ci viene raccontata sempre con il pregiudizio in qualche modo rispetto a quello che poi lei scriverà di Roth perché Claire Bloom scriverà non mi ricordo come si chiama il libro il libro vabbè il libro che ha scritto Claire Bloom qualcosa con Doll's House la casa di bambole va bene qualcuno in chat me lo scriva perché non me lo ricorderò mai il titolo ma comunque quello Living a Doll's House grazie mille Emma scrive questo libro che in Italia non è stato pubblicato se non sbaglio non è stato pubblicato che è un memoir in cui racconta la sua vita con Philip Roth e ne fa un ritratto lì sì molto 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 duro Living a Doll's House è un'altra delle prima pornoi e poi Living a Doll's House sono i due libri che fanno più male a Roth e uno ha scritto lui l'altro l'ha scritto probabilmente la donna che ha amato di più nella sua vita e quindi è anche molto straziante in questo come sia un libro che lui ha scritto che gli è si è in torto contro e invece il libro di memorie della sua ex moglie che lo ritrae probabilmente per quello che era lo fa sicuramente con grande risentimento ecco forse è il risentimento che Roth recrimina di più a Claire Bloom e questa è una parte molto umana di Roth che viene raccontata anche qui non è una giustificazione non viene giustificato quello che fa Roth i tradimenti gli atteggiamenti non vengono giustificati viene però fatto vedere nel suo punto di vista cioè non è anche il suo punto di vista perché non è una questione del mio punto di vista gli ha fatto vedere come lui reagisce a questa cosa con grande semplicità in realtà a parte di Bailey con grande umanità io l'ho trovato veramente molto ben fatto era difficile cioè questo è tutto materiale sensibilissimo e lui l'ha maneggiato bene si vede che questo è un libro su cui ha lavorato tanto però però il suo va si vede che il risultato è ottimo si Bloom lo definisce bipolare Claire Bloom lo definisce bipolare a lui più che altro da fastidio quello sicuramente e secondo me è quello quel modo anche un po' cattivo di parlare del suo ex marito è a seguito del risentimento quindi a Claire Bloom non perdona il risentimento che poi ha portato questa credine nei suoi confronti però almeno Bailey non non giustifica mai Roth cioè leggendo il libro sei sempre cosciente che dalla parte del torto c'è lui cioè nel senso e lui è dalla parte del torto però c'è modo e modo di esserlo cioè nel senso è dalla parte del torto genuinamente non so come dire quindi questa è la parte centrale del libro viene dedicata a questa a questo a questa loro relazione e c'è anche la sì è vero la figlia di Claire Bloom verissimo ecco questo mi fa mi ricorda un altro maschio bianco etero cis ebreo americano che viene citato più e più volte nel libro e questo mi ha sorpreto tantissimo nella posizione che Roth aveva nei suoi confronti che è Woody Allen ecco io non sapevo che Philip Roth odiava Woody Allen e questa per me è stata una grande sorpresa non solo Roth veniamo a sapere questo libro io vengo a saperlo questo libro non lo sapevo era dalla parte di Mia Farrow nella esatto esatto ma ha sorpreso delusione sorpresa non è che mi importa se Roth amava Allen oppure no se gli stava simpatico non cambia il mio giudizio nei confronti di Allen però sì mi ha sorpreso non lo sapevo non lo sapevo esatto 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 infatti io non 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 pensavo ma soprattutto non pensavo che lui fosse la parte di Mia Farrow questo mi ha fatto riflettere tantissimo perché la relazione Roth Bloom non è paragonabile a quella di Allen Farrow perché a mio avviso Mia Farrow non è a mio avviso ok Mia Farrow ha dei ha dei problemi ok li aveva e li ha tuttora e Claire Bloom no ok quindi questo esatto esatto cioè Mia Farrow non sta bene quindi non è paragonabile questa cosa questa è la loro relazione in più no vabbè più o meno secondo me tra Roth e Allen non cambia tantissimo e non non pensavo che lui fosse così amico di Mia Farrow Philip Roth e che fosse dalla sua parte questo mi ha sorpreso tantissimo mi ha fatto riflettere cioè non non pensavo non pensavo e mi chiedo anche il motivo di questa scelta ma forse Roth è veramente era veramente un personaggio molto più complesso e la biografia nonostante sia di mille pagine questa cosa l'affronta pochissimo che era un personaggio molto più complesso di quanto si è uscito si è fuoriuscito dai dai suoi libri perché i suoi personaggi erano molto più chiari facili diretti lui non era una persona così chiara e soprattutto il Roth della parte centrale che anche il Roth tornando a consigli sparsi di Roth secondo me il miglior Roth qui si trova il miglior Roth e tutto quello che è la controvita romanzo bellissimo la controvita operazione Shylock romanzo strasottovalutato di Roth teatro di sabbat il capolavoro di Philip Roth senza dubbio pastrona americana cioè quelli sono tutti capolavori non se ne esce tutti capolavori ho spostato un comunista anche il grande libro la macchia umana tutti libri di altissimo livello letterario in questa parte della carriera di Roth iniziano a serpeggiare due cose uno è il primo visto aspetta Emma sapevo che diceva Harold Bloom inserisce ben sei romanzi di Roth nel canale americano esattamente prima che uscissero il sabbat e passero all'americana se non sbaglio quindi cioè Roth era considerato molto bene da un certo tipo di critica e molto male dall'altra parte quindi era polarizzante questa parte della carriera di Roth viene raccontata alternando vita privata discussioni editoriali cambio di editori discussioni sugli anticipi discussioni sulle trasposizioni cinematografiche altra cosa che mi ha piaciuta non lo so mi ha sorpreso tantissimo a Roth non gliene fregava niente delle trasposizioni cinematografiche della qualità delle trasposizioni cinematografiche cioè eravamo interessato non so al cast o a queste cose però era proprio la trasposizione cinematografica vecchio stile nel senso che io ti do i diritti del libro fatene quello che volete e infatti si vede le qualità delle trasposizioni cinematografiche bellissimo anche il fatto che quando c'è la trasposizione di la macchia umana viene scritturata Nicole Kidman e lui per un certo periodo esce con Nicole Kidman lui era già abbastanza in là con gli anni quindi anche questo altro aspetto del Rot comunque amante delle donne si 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 assolutamente mi ha un po' sorpreso questa cosa qua però però no Rot era un uomo di grande fascino evidentemente o comunque con le donne ci sapeva fare anch'io sono d'accordo anch'io leggendo Rot sentivo Allen ed è questa cosa che mi fa uscire di testa scoprire che Rot odiava Allen cioè come? e invece si invece lo odiava ma tanto anche cioè veramente non capisco non è che gli era indifferente lo odiava proprio dubbi dubbi assolutamente dubbi quindi parte centrale della vita e della carriera è soprattutto contraddistinta da Claire Bloom e Bedi si sofferma tantissimo su cosa dice lei nel suo memoir e cosa pensa Rot fa scontrare queste due cose cerca anche di trovare una quadra oggettiva quindi ottimo lavoro secondo me poi dopodiché c'è la terza parte io la carriera di Rot diviene in tre tronconi da Goodbye Columbus a La mia vita di un uomo poi c'è la parte dal professore di desiderio fino a la macchia umana e poi c'è la terza parte dal 2000 in poi il Rot senile dal 2000 in poi sono cambia completamente il suo modo di scrivere mi è piaciuto come venga raccontato questa cosa perché viene raccontato dal punto di vista dello stile narrativo viene raccontato nella prima parte come Rot passa dai primi romanzi a quello che sono pornoi o romanzi un po' più sperimentali viene raccontato molto quello poi poi c'è la parte centrale di Rot sono romanzi più massimalisti più gonfi barocchi e poi c'è uno stacco cioè dopo la macchia umana Rot capisce che no dopo il complotto contro l'America in realtà dopo il complotto contro l'America Rot dice basta libri lunghi basta libri lunghi il complotto contro l'America è un po' una delusione commerciale per lui non vende tanto è stato un investimento per lui dal punto di vista della scrittura impiega 3-4 anni a scriverlo e non è performante non gli viene riconosciuto nulla dal complotto contro l'America è una forse è l'ultima delusione di Rot perché poi lui cambia e decide di boh basta questi adesso in poi i miei romanzi sono brevi devo tirare le fila e qui secondo me scatta in Rot l'idea di chiudere la carriera altra cosa geniale di Rot Rot è uno dei pochi scrittori che ha deciso quale sarebbe stato il suo ultimo libro cioè nel senso ho detto questo è il mio ultimo libro poi smetto di scrivere non ne conosco altri io francamente Everyman il fantasma esce di scena indignazione l'umiliazione e nemesi sono gli ultimi 5 romanzi di Rot sono tutti brevi sostanzialmente brevi sono tutti romanzi che tirano le fila della sua carriera quindi per conoscere Rot Portnoy lo scrittore fantasma teatro di sabbat ne voglio dire pochi teatro di sabbat pastorale americana la macchia umana 5 dai che l'anima è morente potrebbe essere nel bene o nel male interessante da leggere però questi sono i 5 libri per conoscere Rot leggesti 5 e ci sei anche George Martin ha deciso il suo ultimo libro sì più o meno allora i 4 romanzi che formano il ciclo delle nemesi sono davvero deludenti il numero che salva è Nemesi allora Nemesi secondo me è un bel romanzo ho letto recentemente l'umiliazione che era uno di quelli che mi mancava sì in effetti è deludente l'umiliazione però se non mi ricordo quali sono i ciclo sono quegli ultimi 4 perché Indignazione non fa parte della Nemesi credo non mi ricordo non mi ricordo però sì sostanzialmente non sono dei gran romanzi però sono come gli Allen Minori sono sempre sono sempre Rot cioè funziona lo stesso Indignazione fa parte delle nemesi Indignazione io lo salvo io lo salvo Indignazione tra quelli del ciclo delle nemesi sì 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 per me per me per me sì la controvita è uno dei miei Rot preferiti però per conoscerlo secondo me si può partire da quei 5 poi è tipo il sesto la controvita è anche Shiloh il settimo però grazie parliamo di livello questi 7 sono non si sbaglia in questi 7 ci metti anche la mia vita di un uomo la mia vita di uomo 8 romanzoni e la parte finale diciamo la terza parte che non sono tre parti però la parte finale della vita di Rotti invece è contraddistinta da un'altra donna Lisa Alliday già sentito questo nome? sì l'autrice di Asimmetria che infatti in Asimmetria nella prima parte di Asimmetria romanzo secondo me sottovautato molto bello nella prima parte parla appunto della sua relazione con Philip Roth lei era molto più giovane di Roth era una aspirante scrittrice mi è piaciuto tantissimo il modo in cui Bailey ha raccontato la relazione tra Roth e Alliday perché c'è una dolcezza incredibile nel modo in cui l'ha raccontato una veramente la non è mai pruriginosa non è mai scandalistico anzi molto dolce il modo in cui parla del loro modo di di stare di stare insieme di passare del tempo insieme ed è forse la relazione che è raccontata nella maniera più romantica tra le tra i grandi che vengono raccontate in questo libro e mi ha sorpreso anche qui perché non pensavo perché pensavo avrebbe puntato molto sullo scandalistico avrebbe sottolineato molto il come dire poi il come Lisa Alliday ha utilizzato la loro relazione per raccontarla nel suo esordio che ha avuto grande successo invece viene menzionato o non viene sottolineato perché Alliday comunque è stata una figura molto positiva e che ha chiuso bene la sua relazione con con Rota Differenza di Claire Bloom ovviamente quindi si parla dell'opinione che Rot aveva di Delillo si parla di Libra si si parla si si parla di Libra non solo viene sottolineato anche il fatto che Delillo era uno dei nel circo ristretto che era andato al funerale di Rot quindi viene citato anche in quel caso lì Delillo però ecco non viene raccontato moltissimo della loro relazione però vengono citate due o tre cose assolutamente c'è c'è anche Delillo lo scrittore più presente qui è Sol Bellow cioè Sol Bellow c'è tantissimo e come giusto che sia è stato importante per la carriera di Rot per la vita di Rot e quindi lui è lo scrittore più presente poi ce ne sono anche altri ovviamente però mi è piaciuta molto insomma la figura di Lisa Alady il ruolo di Lisa Alady Nobel parliamo di Nobel l'ossessione per il Nobel l'ossessione per il Nobel la cattiveria del Nobel dell'Accademia Nobel l'idiozia anche della dell'Accademia Nobel perché 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 viene sottolineato più volte che Rot viene segnalato al a chi di dovere viene segnalato più volte sono stati dati esattamente Bellow era l'unico a cui Rot accettava di essere stroncato che poi non è che veniva stroncato però veniva criticato che se Sorbello scriveva qualcosa che non è questo ok tutti gli altri non ci capivano niente se si scriveva no non capisci il cazzo va bene quindi il Nobel viene segnalato come altri vincono il Nobel prima di Rot altri americani vincono il Nobel prima di Rot ed è un crescendo questa ossessione questa frustrazione per non essere stato premiato passa molti step prima è vabbè ma prima c'è una speranza mantiene la speranza poi piano piano questa speranza si perde e poi c'è proprio la rabbia c'è proprio questa anzi non la rabbia lo sdegno per un voler infierire su un autore che visibilmente ci teneva tantissimo cioè ci sono gli autori che non ci tengono tanto al Nobel o che si ok va bene non ne fanno una diciamo motivazione della vita per Rot sì per Rot il Nobel era tanto era tanto il Nobel e viene sottolineato da Bailey la goccia che fa traboccare il baso ovviamente è quell'idiozia del Nobel da Bob Dylan che Rot pubblicamente prende con grande aplomb ma che subisce tanto perché è ovviamente una presa in giro una presa in giro da parte di persone ignoranti degli ignoranti da gente che dovrebbe premiare il merito e invece si basa su questo autore è troppo pop perché abbiamo premiato un autore pop due anni fa allora dobbiamo andare a premiare uno sconosciuto cioè quelle dinamiche di cui parliamo spesso del Nobel e Bailey ci va duro ah sì Bailey qui prende una posizione netta questo è un libro anti-Nobel e come giusto che sia visto che è un libro su Philip Roth e viene sottolineato spesso riportate anche tutte quelle che sono le frasi giornalistiche dicono come Roth sia alla morte di Roth venga si parli soprattutto del fatto che Roth è morto senza aver vinto il Nobel e come giusto è giusto è giustissimo mi è piaciuto come ha chiuso in maniera morbida in maniera come dire discendente è una biografia che secondo me per chi è fan di Roth va letta cioè nel senso che ti dà proprio ti dà delle chicche ti tira fuori delle cose interessanti ma poi soprattutto ti dà una visione a tutto tondo della Roth persona dell'uomo Roth che merita 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 è proprio un libro ben confezionato secondo me non ti ho subito il racconto della falsa intervista di Tommaso di si non ti ho subito il racconto della falsa intervista di Tommaso di Benedetti a Roth pubblicata su Libere in cui gli attribuisci i giudizi negativi su ma queste sono queste sono le chicche di cui vi parlo no cioè ci sono delle cose dentro che si quando ho letto ho detto ma cosa sto cosa sto leggendo cosa sto leggendo si a parte il fatto che Roth ha sempre avuto qualche problema con i presidenti degli Stati Uniti perché partendo da Nixon passando per Clinton che poi invece gli dà la medaglia poi questo non so questo sketch su Obama si ci sono tanti aneddoti di questo tipo e si quello sapevo che aveva aperto un falso account twitter di Roth e che era anche quello con cui aveva annunciato la falsa morte di Roth se non sbaglio se non sbaglio che è anche lo stesso che ha annunciato la falsa morte di De Lillo qualche anno fa un genio parliamo di geni no? ecco Nobel potrebbero darglielo a lui sicuramente sarebbe meritato ci sono tante chicche ci sono tante chicche che rendono sì cioè il la cena con Rushdie sì Rushdie c'è in più punti della biografia Rushdie Salman Rushdie c'è in più anche aspetta mia sorella mi ha detto che non si dice Rushdie ma si dice Rushdie Salman Rushdie io ho sempre pronunciato Salman Rushdie quindi perfetto Rushdie si dovrebbe pronunciare comunque c'è una con Rushdie dopo la fatua e poi ritorna anche in un altro punto del libro non mi ricordo ma molto più avanti grazie mille Erika grazie mille per aver rinoto il Prime per il settimo mese grazie mille per chiunque volesse supportare canale qui sotto tasto abbonati con Amazon Prime gratuito rinnovare tutti i mesi manualmente sempre gratis 6.000 e insomma ragazzi come avete capito questo è un libro ah c'è anche tanta Cinzia Ozic ecco Cinzia Ozic io non l'ho mai letta e invece potrebbe essere un'autrice interessante voi l'avete mai letta? la pubblica è una mente SEO credo in Italia se non sbaglio deve essere insomma mi ha fatto venire un po' voglia di leggerla di leggerla insomma questo un libro prezioso per i fan di Roth per i conoscitori di Roth che mi ha fatto tornare la voglia di finire di leggere Roth e come vi dicevo prima mi mancano tre libri di Roth quando ho finito quei tre libri si fa la monografia verrà un video infinito? sì verrà praticamente un lungometraggio però dopo quella di Delillo va fatta anche quella di Roth è il video che più voglio fare da anni anni che voglio farlo e questa biografia mi ha spinto a voler completarlo a volerlo completare ho comprato lasciare andare e ho comprato il complotto contro l'America sono due dei tre libri che mi mancano dopodiché mi manca solo quando l'era buona no mi manca anche il grande romanzo americano quattro ci metterò un po' di più vabbè e comunque letti questi quattro poi sono a posto oh beh 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 sì ho preso perturbamento di Bernard e sì Lisa mi dice che vabbè che Lisa dice che coppolavoro qualsiasi cosa ha scritto Bernard giustamente però devo dire che mi ispira molto perturbamento mi è piaciuto tantissimo a colpi d'ascia mi era piaciuto anche il suo combente ma è molto più bello secondo me a colpi d'ascia ma certo ma Lisa ha sempre ragione non ci sono dubbi e il combate contro la merca è l'edizione vecchia ho ho preso ho trovato l'edizione vecchia sul libraccio e devo dire che è un colpaccio perché non si trova hai ragione ma è detta in Audi così almeno ho la continuità ho la continuità e sotto quell'angolino lì questo angolino qua che è l'angolino rot io li voglio tutti nella stessa edizione lasciarlo andare è rovinato però vabbè frega niente che sia rovinato l'importante è che sia nella stessa edizione nella biografia quanto si parla del suo metodo di lavoro allora si parla di metodo di lavoro sia nella parte iniziale perché cambia il metodo di lavoro però non ci si sofferma molto sulla scrittura in senso stretto si parla un po' di abitudini quindi l'inizio con la macchina da scrivere lui che scrive nelle varie situazioni in cui scrive dove va a scrivere quando è giovane poi quando invece si ritorna a parlare dopo quando inizia a scrivere in piedi perché se non sapete rot da un certo punto della sua vita per problemi della schiena ha iniziato a scrivere con un tavolo in piedi tipo quelli da architetto no? e quindi scriveva in piedi e poi faceva girava intorno nella stanza per farsi venire le idee questo lo racconta in perché scrivere ecco se volete invece affrontare la parte della scrittura di Roth è molto più interessante leggere perché scrivere scritto da Roth l'insieme di tutti i saggi di Roth lì si parla tanto di scrittura qui molto meno molto molto meno grazie a tutti i saggi